Dopo l'alluvione nelle Marche e anche nell'Aquilano c'è preoccupazione soprattutto per l'aspetto della prevenzione. Dall'asbucca di Paganica a San Gregorio arriva l'allarme per l'alveo del fiume Raiale tra Paganica e Assergi, che risulta pieno di tronchi e alberature cadute al suolo e ancora pericolanti e che ha bisogno di immediata manutenzione. Il riferimento è al tratto del torrente che attraversa la Valle del Vasto a Sergi e Camarda e che attraversa pure Valle Verde e Madonna da Pari, sino alla zona detta Pontiglione a Paganica, popolosa frazione a destra dell'Aquila. Galletti ha già provveduto ad inoltrare le opportune segnalazioni, una necessità visti gli avversi fenomeni atmosferici che sono sempre più frequenti. Questo tratto di torrente per Galletti non è mai stato oggetto di manutenzione se non grazie al volontariato locale. Invece l'asbucca per quel che riguarda il tratto che va dalla Madonna da Pari fino all'altezza dell'abitato di Paganica e del cimitero provvede periodicamente alla manutenzione e alla pulizia dell'alveo, ma l'amministrazione dei beni separati ovviamente non ha risorse e mezzi per la messa in sicurezza. Galletti ha chiesto un sopralluogo. Qua abbiamo dei tronchi a monte molto ma molto grossi, che potenzialmente potrebbero fare un dappo qui alla struttoria della Madonna da Pari e che succederà? Allora noi già una volta abbiamo interessato la prefettura, che si è mosso e ha chiamato tutti gli enti preposti, che potenzialmente hanno la responsabilità di questo scembio, perché si sono succedute provincia, regione, i consorsi di bacini e quant'altro dovevano amministrare questo torrente, invece sta nel caos. Ci sono però purtroppo negli anni 20 e 30 dei precedenti per quel che riguarda alluvioni e infatti Galletti è preoccupato per questo e per questo chiede prevenzione in quell'area. Ci sono dei precedenti grossi, ci fu anche, si dice, negli anni 20 un morto, ci fu trascinato via dalla piena. Il problema c'è e va risolto immediatamente, se no qualcuno si deve assumere le responsabilità. Noi nel nostro piccolo facciamo l'Ira di Dio, dal cimitero fino al ponte del Mulino lo teniamo sempre pulito e ogni anno facciamo due interventi, prima di Pasqua e prima di Ferragosto. E quindi con manodopera occasionale, con i nostri operai, qualche volta abbiamo dato qualche appalto, però lo teniamo pulito e non è un pericolo.